Eccoci e bentornati sul mio canale! Partita in live su Black Ops 2 Don bel po' che non giocavo a Nuketown Sono entrato in questa partita in corso E vediamo un po' cosa riusciamo a fare Ma... però devo... E vabbè, ciao core Ciao core Perché è da tanto che non ci gioca questa mappa Dato che è uscita e sono anche in corso Non fa niente, però almeno me la volevo un po' Oh cacchio, che cacchio stanno a far qua? Forza Piano Oh, tutti qua stanno Vabbè, però stava fermo questo Cioè, a fondo mappa col mitraglione però Mamma mia Allora, come siamo? Uno o due? Siamo appena entrati Vediamo un po' come va qui su Nuketown L'abbiamo tipo chiusi nella loro metà campo Forza Oh, è muori Ma non arrivano i colpi? Ma che connessione c'è? Quattro Corpo cane, ma... Forza Che cavolo Ho sparato tutto quello che potevo Ma ne fosse morto uno Oh, ma regà Ma non arrivano i colpi Ma quante cacchio dei proiettili devo sparare? Oh, forza Forza Namore, regà Dove vai col pompa? Dove vai col pompa? Dove vai col pompa? Dove vai pure tu? Oh, oh Però sta da vedere, regà Ma che è? Ma chi è quest'altro? Ok Dai, col bazooka Ma che è? Mamma mia Sto a vedere delle cose Veramente vergognose Oh Forza Ma non ce l'avete le MP, regà? Non ce l'avete le MP? C'è la miseria Forza Forza Ok Mamma mia Mamma mia Se mi rompono quella caccia di torretta Mi fanno Un bel Un bel favore Su Ok, rotta Namo Namo Namo, regà Forza Via giù Via giù Via giù Namo E' un'altra torretta là Vieni qua Vieni qua Venite qua da me E mannaggia Quello gioca già mirato Già mirato questo Ok, preso Preso Entriamo in partita Su Entriamo in partita, regà No, 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 no Doppio, 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 doppio Cacchio Sta cacchio di torretta Mi sta veramente a rompe l'anima Oh, e muori Cacchio Che dobbiamo fare per mannarti giù? Su, su Su Sta a rompe? Non capisco se la sta rompendo, eh Forza Ok Andata No Stavo a distrugge la torretta Stavo a distrugge Come siamo messi 13,8 Siamo magicamente Ripresi Aspetta Cacchio sta questo Dove vai? Ma che è? Ma quanti colpi devo sparare Ma ammazzarne uno, regà? Ma in che stanza so Ma i cazzo Oh, e fammi passare In che stanza sono mai capitato? Ho messo finalmente I caricatori aumentati, eh E basta Guardate come Stai fermo Oh Oh, e vabbè Sì Il coltello è il coltello a vuoto Ma che cos'è? Ma che cos'è? Il coltello a vuoto Basta Dove è uscito Dove è uscito a sta stanza, regà Per la prossima partita Perché È vergognosa È vergognosa la stanza Come Addirittura Mi provo pure il Dragonfire Via, 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 via Via Oh Vabbè No, ma state a vedere, guy C'è qualcosa che non va in questa partita, eh C'è qualcosa che non va Non muoiono per niente Basta E muori Guardalo, guardali Guardali Mirati alla testa E non vanno giù ne manco Con i sassi Aspetta Forza Ok Andiamo Aspetta Vieni qua Chi è che me sta a sparare? Come siamo messi? 17 e 11, va Non male Sempre in positivo Ma Niente di che Su Newtown Eservirebbero più Gli attacchi E dai Bello Bello Prendi Oh Questo Che stava a fondo mappa Che figata epica Aspetta che Prendi Questo tu cacchio sta Questo qua che stava a camperà Forza Vieni da me No, no Ce ne sta uno buttato per terra là Ce ne sta uno buttato là per terra Porco cane, regà Se riesco Forza Bello Preso Zitti Sì No Mi hanno visto Però ho chiamato il visat Ho chiamato il visat Quanta gente c'è sta qua dentro? Quanta gente c'è qui dentro? Andiamo dai visat Su Rimontiamoci 11 punti Regà Rimontiamoci 11 punti Rimontiamoci 11 punti Rimontiamoci 11 punti Ma non siamo a rimontare proprio Ne merita ceppa Forza Forza Anammo di piastrina Dai 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 Eccoli che arrivano Eccoli che E vabbè Dai Ha girato l'angolo E ha sparato Ma dimmi che non m'hai visto prima Che ho sparato prima di te Prima di te ti ho sparato Dai È uno scherzo della natura È uno scherzo Su E muori Ok Forza Guarda Oh comunque questo qua Con il pompa È veramente improponibile Mi fa veramente venire nervoso Perché non muore Intanto 83 95 Abbiamo fatto Una bella rimonta Anche se Purtroppo non è bastata E dai però Forza Questo continua Con questo lanciarazzi Intanto 84 Vabbè Dai come è partita su Nuketown 29-17 Sono entrato già stanno a 20 Spero che il video Sasse il vostro gradimento Se vi è piaciuto Iscrivetevi sul mio canale Mettete un bel mi piace Sul mio video E ci vediamo con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale